Ciao a tutti, buongiorno, è da tantissimo che non ci si vede ma scusate sono veramente super incasinata con quattro bambini, il marito, i cani, la casa, metteteci anche i virus perché prende il virus 1 automaticamente se lo passano tutti e quattro quindi un disastro scusate veramente ma sapete quando riesco pubblico sempre qualcosina e sicuramente da ora in avanti pubblicherò video brevi perché veramente non ce la posso fare quindi tanti video ma brevi e vi volevo dire che ieri sera sono andata da Lidl e ho comprato un particolare prodotto che non ho mai visto quindi adesso lo andiamo a provare assieme, che ne dite? Mi raccomando se non volete perdervi tutti i miei video iscrivetevi, condividete che mi fa sempre piacere, mettete mi piace, commentate che io alla sera amo tantissimo leggere tutti i vostri commenti e beh basta, scusate stannote ho passato una notte da inferno perché Mattia ha avuto la febbre e come potete sentire anche dalla mia voce non sono neppure informissima io comunque va bene dai bando alle ciance e incominciamo proviamo questo nuovo prodottino di Lidl allora il prodottino in questione è questo l'ho voluto comprare mio marito, prima volta che lo vediamo 10-12 minuti in padella con della verdura, delle patate, queste tipo salamelle non si capisce bene che cos'è, andiamo a leggere dietro, è scritto tutto in piccolissimo allora in padella antiaderente scaldare il contenuto della confezione senza aggiunta di olio a fuoco medio per 11-12 minuti 6 minuti per 300 grammi, mescolare regolarmente durante la cottura, assicurarsi che il prodotto sia ben caldo prima del consumo ok, peccato che la busta non è microondabile, io amo le buste microondabili perché con 4 bambini infili in microonde 900 watt 3-4-8 minuti e pronto, quindi peccato veramente qui si è scritto tutto in piccolissimo, ho paura a leggere gli ingredienti, ho veramente tanta tanta paura a leggere gli ingredienti adesso vediamo che ce la faccio ho aperto la busta e il prodotto si presenta così questa è la verdura questa dovrebbe essere la patata e questo appunto la salsiccetta versiamo tutto sul piatto crispy ok, perché io andrò a fare tutta questa roba in microonde ok, dice di non aggiungere condimento, quindi io non vado ad aggiungere assolutamente nulla e userò la funzione dual crisp per, quanti minuti dice in padella, 12 minuti quindi dual crisp 12 minuti, andiamo allora, dual crisp per più 1 programma automatico per, abbiamo detto, 12 minuti facciamo 13 ho appena tolto il piatto crispy dal microonde e questo è il risultato finale non vi dico che profumino delizioso che c'è veramente molto molto invitante adesso assaggiamo